Salve il Noreo Vio, Pabrile Papa, que scanne da tutto alla voce, con il Dio Padre公ian uomo e torno alla sua vita. Sottose, driftingo, di verità e COVID-19. Ancora il Dio Padre%. In quel tempo, come potrebbe rarneggia con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente trovato la vita di la morte. Il verità è il vero e il suo tipo di uomo di trattare. I discepoli si guardavano l'alto, non davvero per il mio attacco. Ora, come dicevi, i discepoli, quello che Gesù amava, si raccomandò l'alto, non davvero per il mio attacco. Simon, dietro il rispetto, il suo immagine, forse è quello che lui parlava. E' il mio attacco, Gesù, perché Gesù dice, Signore, chi è? Per rispondere a Gesù, è come per il tuo male, e non davvero per il mio attacco. E, intendo il mio voto, lo prese, e lo riempi da figlio, lo decimo, mi inizia il dopo. Allora, dopo il mio voto, sta parlando il mio voto. Il discepolo Gesù, Gesù, quello che vuoi fare, fa lo prese. Nessuno, nei commentanti, capì, per fermi, a che sei del loro prese. Quindi, infatti, pensavo, che poiché chiudate nella massa, Gesù lo dice, o che sei del loro prese. Oppure, che lo dice la nata, che non ci vuole fare, perché è il prefiore il tuo cuore, è il suo giudicismo, è il suo giudicismo, è il suo giudicismo. Quando il tuo scendolo Gesù dice, o per il mio primo, è il suo giudicismo, è il mio piatto, di santo che è giocato sentito di santo che io non ho provato che non gli hanno fatto che non voglio chi erano e lui ancora poco sono un po' migliormente ma come un momento per il reto e poi dove non ho vinto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.